Luca Di Donato Luca Di Donato Luca Di Donato Il convegno intorno alle 11.15-11.30 noi ci regheremo presso il porto di Punta Penna dove andremo a dare il benvenuto anche alla nave Capri che questa notte, tarda tarda notte, arriverà al porto di Punta Penna speriamo che il tempo gli dia la possibilità appunto di arrivare e quindi da domani mattina la nave Capri è possibile essere visitata sia dalla cittadinanza che dalle scolaresche anche nel pomeriggio di domani e anche nella giornata di domenica domani dopo le 11 quindi noi andremo a visitare la nave e dopodiché nel pomeriggio a Vasto arriverà la fanfara della Marina Militare di Taranto del Dipartimento della Marina Militare di Taranto alle ore 18.30 la stessa fanfara farà un'esibizione a favore della cittadinanza all'interno del Palazzo d'Avalos e la stessa fanfara la domenica mattina alle 9.45 aprirà un defilamento per le vie cittadine a partire da Piazza Brigata Maiella Corso Caribaldi fino ad arrivare a Piazza Rossetti e poi Piazza del Popolo fino a Via Adriatica al monumento al Cippo dei Marinai dove lì ci sarà l'alzabandiera la deposizione della corona il saluto delle autorità e poi da lì riparte il defilamento fino ad arrivare alle 11.15 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore domani sera è un appuntamento importante perché la Marina Militare oltre il CMI, la nave ma ha concesso la fanfara la fanfara del Presidio di Taranto che è composta da circa 30 musici che metterà a disposizione la loro professionalità insomma quello che loro svolgono nelle maggiori manifestazioni importanti della Marina Militare per noi è una grande vittoria aver avuto in occasione dei 90 anni dei festeggiamenti di questa associazione aver portato a vasto non solo il CMI come dicevo e la nave ma la fanfara della Marina Militare e quindi coinvolgiamo la città perché sicuramente è un evento bellissimo grazie